Buonasera a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24, i principali titoli del nostro telegiornale, confermato l'ergastolo per i fratelli grandi Aracri di Cutro. Brutto momento per l'ex presidente della regina Foti, indagato per truffa e bancarotta. Sono in arrivo dalla regione Calabria, nuovi fondi per la formazione di giovani professionisti. Il festival di buon umore in arrivo nel Vibonese per una intera settimana ricca di eventi. Gaetano Navas è pronto a dare il meglio di sé alla regina. Erano finiti alla sbarra nell'ambito del processo denominato Chiterion, dopo l'indagine condotta dalla DDA di Catanzaro, parliamo dei fratelli grandi Aracri dell'omonima Cosca di Cutro, è stata confermata in Cassazione nei loro confronti l'ergastolo. Un quadro accusatorio confermato nei termini e nella sostanza. Una sentenza d'appello che non lascia scampo agli uomini del clan dell'andrangheta di Cutro, finiti alla sbarra nel processo Chiterion. Una sentenza pesante, quella che la corte d'assise d'appello di Catanzaro ha inflitto a una delle cosche più potenti e ramificate dell'andrangheta calabrese. All'ergastolo infatti sono stati condannati il boss Nicolino Grande Aracri e il suo fratello Ernesto, 30 anni invece, inflitti ad Angelo Greco, detto Lino. Pele pesanti di fatto, considerando che il GUP di Catanzaro, il 4 novembre 2016, aveva condannato il capo Cosca Nicolino a 30 anni e a 24 anni ciascuno il fratello Ernesto e Greco. Assenti in questo importantissimo processo le istituzioni, in primis la regione Calabria. L'indagine Chiterion della DDA di Catanzaro, infatti, ha messo in luce una vasta estensione del locale di Cutro. Associazione mafiosa, omicidio, estorsioni, usura, detenzione e porti illegali di armi, reati e vero titolo contestati agli imputati, che riuniti sotto la guida del potente Grande Aracri, si proponevano la gestione dei lavori sulla 106, sui pacchi eolici o il controllo dei villaggi turistici, tra i quali il villaggio Capo Piccolo di Isola Capo Rizzuto, estendendo dunque il proprio potere intimidatorio dal crotonese fino a Vibo Valencia, con forte attecchimento nel territorio del capoluogo di Regione. L'ex presidente della Regina, dunque indagato per bancarotta e truffa. Sentiamo i particolari nel prossimo servizio. Bancarotta e truffa. Sono queste le ipotesi di reato contestate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria all'imprenditore Pasquale Foti, meglio noto come Lillo, ex appresidente della Regina Calcio, in relazione al fallimento proprio della società Amaranto. Il sostituto procuratore Stefano Musolino ha notificato la chiusura delle indagini agli interessati, complessivamente una decina, oltre a Foti, dopo oltre due anni di attività investigativa. All'ex presidente la Procura contesta di aver svolto un ruolo centrale nella vicenda e di avere distratto e occultato beni patrimonio della società calcistica. Il PM inoltre ha contestato a Giuseppe Ranieri, che per un periodo aveva sostituito Foti alla guida della società, di avere cagionato un dolo e per effetto di azione dolose il fallimento della Regina Calcio S.P.A., procedendo al sistematico finanziamento dell'attività di impresa attraverso il mancato pagamento dei debiti erariali. Le indagini sono state eseguite dalla Guardia di Finanza. E cambiamo argomento, passiamo alla politica. Arrivano nuovi fondi dalla Regione Calabria destinati ai tirocini formativi. Ulteriori risorse da destinare all'avvio dei tirocini formativi, nell'attesa che l'Inps completi le attività di accertamento di propria competenza. E' quanto deciso dalla Giunta regionale, guidata da Mario Oliverio, con l'assessore al lavoro, Guelfare Formazione e Angela Robbe, che, consapevoli della necessità di dare il ristoro a bisogni e a esigenze espresse dalle persone della nostra Regione, hanno determinato un incremento di risorse disponibili per avviare il nuovo bando. Abbiamo deciso come Regione di mettere 20 milioni di risorse per far partire i tirocini in tempi veloci, perché c'è un'esigenza sociale fortissima. Non possiamo non tenerne conto e quindi li facciamo partire nei tempi in cui avevamo detto che sarebbero partiti, quindi entro l'estate. Nel frattempo, perché abbiamo deciso di mettere risorse nostre? Perché è giusto dare risposte al territorio, alle persone, però contestualmente vogliamo finalmente, una volta per tutte, portare avanti un'operazione di messa in trasparenza di tutte queste risorse che sono all'Inps, per avere una situazione chiara e definita nell'interesse della Regione, ma nell'interesse delle persone sempre. Per cui, mentre oggi avranno risposta, perché abbiamo investito risorse, riusciremo finalmente a definire la situazione che dal 2009 non è chiara e faremo un'operazione trasparenza senza penalizzare nessuno. Arriva anche in Calabria l'Octoberfest Paulaner, vento attesissimo da tutti gli amanti della buona birra. Non è una festa della birra, ma un vero e proprio Oktoberfest. E così, dopo Monaco di Baviera, Parigi e Cuneo, a ottobre toccherà a Rende ospitare la Kermess, che prende spunto da quella che si svolge in Germania. Dal 24 ottobre al 4 novembre, quindi, sarà tempo dell'Octoberfest Paulaner, un evento, o se preferite, una serie di eventi, in cui la birra rivestirà certamente un ruolo chiave, ma che permetterà di declinare a 360 gradi il concetto di spettacolo. Il quarto evento europeo, in termini di tempo e di diffusione, dell'Octoberfest, che è il più celebre festival del mondo, con più di 7 milioni di presenze all'anno a Monaco di Baviera. La formula che adotteremo per quanto riguarda l'impostazione della festa è la medesima formula che viene adottata a Monaco, ovvero la necessità e l'opportunità di creare una festa per tutti, una festa che possa coinvolgere le famiglie innanzitutto, anche con i bambini, e proprio per questo verranno preparati e organizzati eventi mirati all'accoglienza dei bambini, una festa che potrà accogliere le persone anziane, e una festa ovviamente anche diretta ai giovani, perché prevederà comunque tante serate di musica dal vivo, la presenza stabile per tutta la durata dell'evento di una band bavarese che suonerà le musiche tradizionali, e ripeto, questo evento sarà sicuramente trainante per l'intero territorio. Quello che a noi ci piace di più dire è quello di riuscire a portare quelli che sono gli eventi collaterali e tutte le sinergie che vengono create con Luna Park, con le famiglie, con i bambini, proprio perché anche l'evento prende come payoff, come slogan, una festa per tutti, tutto in una festa. Quindi diciamo che il concetto della birra è molto importante, perché ovviamente è un buon modo per bere e divertirsi, ma non solamente quello. La città di Filadelfia di Vibo Valencia ospiterà un evento molto singolare, stiamo parlando della settimana nazionale del buon umore. Della settimana della risata, le varie serate che organizzeremo in una bellissima piazza, che è quella della nostra cittadina. Piazza Monsignor Serro, che è veramente una bella piazza, che merita anche dei palcoscenici così importanti, anche delle serate di buon gusto. Questa è una manifestazione che quest'anno l'amministrazione comunale, quindi il sindaco Mario Sidonisi, ha voluto includere nella programmazione dell'agosto a Filadelfia. È una manifestazione che ha l'appoggio scientifico dell'Accademia della Risata, del professor Bedini, dell'Università di Urbino. Questa collaborazione è una collaborazione assolutamente nuova, anche a livello nazionale, perché non è un festival di barzelletto o quant'altro, ma è un festival del buon umore che coglie tutti gli aspetti per quanto riguarda il discorso del sorriso. Quindi gli aspetti terapeutici, quindi gli aspetti del divertimento, quindi gli aspetti collegati con il cibio. Dal 25 fino al 29. Il 25, soprattutto 26, 27 e 28, in Piazza Serrao, presso il palazzetto, ci saranno delle manifestazioni legate quindi all'Accademia della Risata. Le manifestazioni sono collegate alla yoga del ridere, alla terapia del sorriso, al cibo collegato agli aspetti terapeutici del sorriso, quindi alla comico-terapia, quindi una serie di iniziative che saranno di natura, come dire, divulgativa. A questo si aggiungono una serie di serate, dalla teoria si passerà alla pratica, quindi avremo dei cabarettisti famosi, come Chico Paglionico di Medin Sud, come Sex and the City di Medin Sud, avremo Enzo Salvi, il notissimo attore comico che chiuderà la manifestazione del 29, avremo delle serate di teatro, avremo delle serate di cabaret, avremo delle serate di illustrazione scientifica. Abbiamo la collaborazione delle associazioni presenti sul territorio. Una serata molto particolare è quella del 28 luglio, presso Piazza Serrao, che è la cena del buon umore, con i prodotti tipici locali, cucinati dai nostri chef, su indicazione della dottoressa Daniela Soroni, con degustazione e animazione. Invitiamo tutti quanti, con l'Accademia delle Risate, il primo festival del buon umore a Philadelphia. E cambiamo nuovamente argomento, è stata presentata a Catanzaro, la sesta edizione del Roccella Fit Walking. È tempo di benessere, quest'anno l'abbiamo proprio voluta coniare così, questa sesta edizione del Roccella Fit Walking, perché ancora di più quest'anno, in questa edizione, si è impreziosita del valore del benessere in termini anche salutari, proprio di salute e di sanità pubblica. Perché quest'anno, con la collaborazione con la Com in Italia, che sarà presente da noi nel villaggio del Fit Walking, dal 26 al 28 di luglio, con le tre carovane, le carovane della prevenzione, che stanno facendo il Giro d'Italia, per portare prevenzione direttamente ai cittadini, direttamente in seno ai cittadini. Quindi queste tre giornate saranno dedicate proprio a fare attività di prevenzione primaria, quindi sarà possibile fare radiografie, mammografie, ecografie al seno, visite ginecologiche, si potrà fare la mappatura dei nei, si potrà fare il controllo della vista, quindi ci sono tutto un pacchetto di attività sanitarie che saranno elergete all'interno del villaggio della salute, questo del villaggio della salute, il villaggio del Fit Walking, quindi un villaggio che sarà sportivo, ludico, sportivo, ma soprattutto volto al benessere e alla salute. Siamo alla sesta edizione di questa manifestazione che ormai non coinvolge soltanto il singolo paese di Roccella Ionica, ma tutta la costa di Gelsomini e anzi oserei dire, si può dire un po' quasi tutte le province calabresi perché arrivano da ogni parte della regione Calabria. Tra l'altro credo che questo sia dovuto sia agli organizzatori che hanno saputo quindi negli anni coinvolgere sempre più persone, ma soprattutto alle finalità perché non è soltanto il fitness, ma si collegano una serie di questioni legate al fitness, quindi tra cui oltre la prevenzione, il benessere fisico, la riscoperta dei borghi, di alcuni paesaggi che altrimenti uno o in macchina o in bicicletta magari non riuscirebbe a vedere, quindi da un lato questo, dall'altro anche la prevenzione. E ora passiamo al calcio e ascoltiamo le parole di un nuovo acquisto della regina, si tratta di Gaetano Navas. Gaetano Navas, intanto benvenuto a Reggio Calabria, come hai saputo del tuo approdo alla regina? L'ho saputo subito appena ho smesso quasi il campionato che il direttore mi ha voluto fortemente e quindi non ho aspettato altro che accettare subito questa chiamata e venire qui a Reggio. Senti, 67 presenze, lo scorso anno per te è stato un campionato difficile con l'Agracass, che momento hai vissuto dal tuo punto di vista? Sì, è stato un momento difficile e come tutti sappiamo vengo da una retrocessione molto brutta che segna tanto la carriera di un calciatore. Senti, che invece qui alla regina che gruppo hai trovato? Ho trovato veramente un grande gruppo e poche volte ho trovato un gruppo così unito già dall'inizio e siamo tutti bravi ragazzi e quindi cerchiamo di dare il massimo sempre e comunque fino alla fine. Tu hai già giocato all'Oreste Granillo e hai visto quello che sono i tifosi della regina e i veterani ti stanno trasmettendo qual è il valore di questa maglia? Sì, il valore di questa maglia me lo stanno trasmettendo giorno dopo giorno e io cerco sempre di dare il massimo come ho sempre fatto dove sono andato. e ho giocato già lo scorso anno e veramente è una bella emozione entrare in quello stadio e vedere il pubblico che acclama il nome oppure gli applausi del pubblico. E anche per oggi è tutto io vi aspetto nelle prossime edizioni di Calabria News 24 in forma e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it Grazie, buona serata a tutti voi.